Sulla fronte, così, sugli occhi, non li posso passare perché ho il trucco, quasi perché non ho fondotinta, quindi non sporco le ambolle e non lo passo sugli occhi perché lo andrà a passare su di te. Io vado a massaggiare questa maniera, ora le riposare. Fresche, vero? Guarda, io lo sapevo che... Che sono che fa questa mousse? Mio Mi m'è? Che ti da tutto? Ero fresco? Delicatamente, Luis allora i suoni di questi magazine li adoro mi fanno un po' dormire troppo rilassante peso adesso so ciao ragazzi questo è un video sponsorizzato da im im sapete che io collaboro con loro da un bel po di tempo e con i loro prodotti mi trovo bene questa volta i prodotti che vi faccio vedere di cui potete trovare il codice sconto sotto in infobox sono dedicati al contorno occhi sono tutti e due degli anti age ma uno dei due in particolare agisce proprio sull'eventuale presenza di pelle flaccida ve li mostro molto velocemente prima di iniziare il video vi faccio vedere il primo siero come sapete la bottiglia si presenta in questo modo questo è un questo è il contorno occhi vedete com'è molto molto denso è il primo anti age questo che vi mostro io li utilizzo questi prodotti ragazzi sono fantastici il secondo perché appunto vi arriveranno insieme se li ordinate è questo qui allora io questo prodotto in passato ve l'ho già mostrato continuo a collaborare con questa azienda perché io con questi prodotti mi trovo bene come vi dicevo il kit sono tutti e due contorno occhi quindi questo è molto 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 liquido leggermente gelatinoso e si presta bene praticamente a questo massaggio che andrete a fare contorno occhi sono dei prodotti fantastici ragazzi che vi strastra strastra straconsiglio vi metto il codice sconto in bio se volete acquistare da amazon questi prodotti fantastici che ripeto con i quali io ripeto mi trovo bene ma adesso possiamo iniziare con il video un po' rilassamento ragazzi Ciao tesoro mio, come stai? Tutto bene? Mi fa piacere, sì anch'io sono tanto 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 stacca e il caldo in questo periodo putta a terra un po' tutti secondo me, animali, tutti, tutti, anche gli animali, sì ma dimmi un po' perché sei venuta qui? Per il motivo che penso io? Hai bisogno di un po' di coccole? Quanto vorrei che coccolassero tanto un po' anche a me? Sì, tanto, tanto, tanto Sì, ho sempre i miei prodottini qui a portata di mano, rinfrescanti, che ti rigenerano, sì Ah, sì, ce le ho, ce le ho Le ice globis, credo si chiamino così Io le chiamo più comunemente ampolle E servono per il massaggio sul viso? Certo, certo Certamente ce le ho pronte, sono fresche e te le posso passare tranquillamente sul viso E tu ti rilasserai non solo con quel massaggio che le ampolle ti andranno a fare, le ice globis Ma anche se hai detto il suono dell'acqua, ok? Poi ti, esatto, esatto, prima ti passo un po' di siero detergente Vado a pulire un po' il viso e poi facciamo tutto male a male, ok? Stai tranquilla, mettiti comoda, rilassati perché questo sarà un momento per te Veramente, veramente, stra, 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 stra rilassante Non temere, ci sono io qua con te Anzi La prossima volta ci dobbiamo scambiare ruoli Sarai tu a massaggiare me, ok? Ho bisogno anche io di relax Sì, tranquilla, siediti pure, non c'è bisogno che tu stia in piedi Allora, con questo dischetto adesso io vado a detergere il tuo viso Con questa speciale mousse, sì, che hai già visto e rivisto in passato Non c'è bisogno di essere spostato allora stai fermo tesoro mio che ti dà d'argo per il fresco delicatamente il viso ti senti rinfrescato? che suono che fa questa mossa? Sì, non ti preoccupare C'è tempo, farei tutto Intanto non dobbiamo fare anche il trucco, no? Ok, ti faccio un po' di skin care, vedo qualche crepe Il correttore? Sì, ce l'ho portata di mano Ok, allora puoi Mettiamo anche quello Hai visto che non brucia gli occhi? Visto? Non mi trovo bene anche io Allora tesoro mio Facciamo asciugare un attimo la pelle Ok Adesso guarda Le bolle che vedi che uso nelle live e nei video Sto per usarle su di te Si, sono proprio loro Sì Allora il massaggio che ti andrò a fare sul viso E questo è questo qui Ok? Sulla fronte Così Sugli occhi Non li posso passare perché ho il trucco Quasi perché non ho fondotinta Quindi non sporco le bolle Però il correttore E l'ombretto Quindi non me lo passo sugli occhi Perché lo andrà a passare su di te Io vado a massaggiare Questa maniera Ora le riposo un attimo nel ghiaccio E tu ti sentirai subito Meglio Ok Allora Allora metto un attimo nel ghiaccio Faccio rinfrescare un altro po' Ok Ok Una alla volta Te le passo sul viso E ti sentirai subito meglio Massaggiata Fresche, vero? Guarda Io lo sapevo che Sarebbero state Wow Su di te Sì con questo caldo Quasi quasi ci si rigenera La sensazione sugli occhi come Bello Bello, vero? Bello Sì, sì Ora continui Non ti preoccupare Che bello Il suono dell'acqua Il suono dell'acqua Sì, sì Sì. ok 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 ti senti Rinata? beh si allora questi speciali prodotti mi sono arrivati da poco ma li utilizzo già da un po' questo è un siero contorno occhi che mi piacerebbe passare su di te si lo trovi su Amazon e Im Im si 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 e si certo certo ho sempre i 15 sconto volevo farli provare a te perchè voglio davvero darti il massimo in questa in questo pomeriggio insieme non 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 l'asciugatore è rapido esatto allora i suoni di questi magazine li adoro mi fanno proprio dormire troppo rilassante adesso poche gocce di questa sera contorno occhi ti faranno stare bene molto bene stai tranquilla? ok poi andiamo a mettere anche il siero contorno occhi e un po' di crema sul viso sempre dalla stessa linea quanto d'orgo si va a smanerci? li adoro ok 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 si sempre contorno occhi questo ok poi vado ad utilizzare l'altro siero però per il viso è questo denso in uguale maniera ora vedi ti vado a massaggiare tutto il viso ok 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 ecco qua di forma che avevo quasi finito però come ti senti? rigenerata lo sapevo ed infine visto che vuoi nascondere le occhiaie un po' di correttore qua e un po' di correttore te lo dà un po' lo con con le dita così copre meglio perché non assorbe come la spugnetta ok tesoro mio abbiamo finito quando ti vorrai rinfrescare un'altra volta sentirti rilassata coccolata accompagnata nel mondo del benessere mi raccomando passala qua non ti dimenticare mai ok perché posticina qui per te lo troverai sempre ciao tesoro mio a presto e buon'estate e buon'estate un po' di correttore